strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di strategia digitale in questi giorni in cui facciamo tanta didattica a distanza chi in prima persona chi per interposta persona io attraverso le mie figlie che stanno lì la mattina intorno a un tavolo come se fosse una scuola a fare i loro esercizi o fare gli incontri su zoom o su google meets con le varie maestre bene penso che ci siamo resi tutti conto di una cosa ci siamo resi conto che la didattica digitale la didattica a distanza ha bisogno di nuovi strumenti di nuove modalità infatti non parlo semplicemente delle tecnologie fare lezione tramite uno strumento di videoconferenza vuol dire mettere in mezzo una tecnologia ma come dico sempre prima bisogna pensare alla strategia e poi alla tecnologia e allora voglio parlarvi oggi di una nuova strategia per insegnare una strategia che mette in campo il gioco una strategia che si basa sulla creazione di quiz interattivi online con strumenti completamente gratuiti che vi racconterò che serve proprio a insegnare serve a insegnare a bambini a studenti in una cornice di gioco una cornice di divertimento perché l'apprendimento è un una fonte di divertimento una fonte di gratificazione e se i nostri studenti non si stanno divertendo forse il problema non è solo loro il problema potrebbe anche essere nostro come insegnanti nel non essere riusciti a creare le dinamiche giuste per far percepire il piacere che sta dietro all'apprendimento far percepire la dimensione ludica dell'apprendimento e allora entriamo nel vivo di questa puntata scoprendo insieme come si possono creare quiz interattivi online per insegnare divertendosi tu mi dirai ma il quiz di per sé dovrebbe servirmi per verificare l'apprendimento cioè io con il quiz verifico se gli studenti hanno imparato quello che gli ho insegnato e no e qua ti volevo la visione italiana del quiz del test ecco è di mettere alla prova è proprio quella del del test cioè ti faccio un esame per vedere se tu hai imparato quello che ti ho insegnato e quindi puoi passare al livello successivo in realtà questa è una visione riduttiva cioè sì posso fare un test per metterti alla prova per verificare ma non è l'unico scopo dei quiz o dei test che dir si vogliano un altro scopo secondo me ancora più importante è il quiz o il test a scopo didattico quindi non per verificare ma per insegnare come mai è così importante soprattutto chi è che utilizza questi quiz beh nella mentalità anglosassone nel sistema di insegnamento barra apprendimento anglosassone il quiz ha proprio questo scopo io ricordo quando ho fatto il primo corso in università americana mi sono trovato davanti dei quiz anzi a dirti la verità non non le avevo affrontati subito questi compiti perché mi metteva ansia no allora dicevo no aspetta devo prima studiare tutto tutto il materiale che ci hanno dato a studiare perché poi quando il quiz lo puoi fare una sola volta quando vado ad affrontare il quiz se lo sbaglio poi prendo un brutto voto allora c'avevo un'ansia prima di aprire questi quiz finalmente l'ho aperto e ci sono entrato e sono rimasto basito perché ho trovato delle domande veramente stupide cioè delle domande erano intelligenti ma le opzioni che venivano date a queste domande erano assurde ce n'era una corretta e le altre erano palesemente sbagliate allora la prima domanda ho detto ammazza che tordo sto professore di questo corso che ha fatto la domanda così semplice dai è logico no te rispondi risposta giusta lo sapevo vado alla seconda domanda ma è logica è evidente qual è la risposta giusta seleziono la risposta giusta e vado avanti insomma alla quarta alla quinta dico ammazza ma ma so veramente forte ho studiato veramente tutto e sono bravissimo oppure il professore non sa creare i quiz sono andato avanti ancora e mi sono accorto che ero entrato in uno stato particolare in uno stato di apprendimento per cui le mie risorse mentali erano coinvolte proprio come quando sto lì a leggere il libro per studiare eppure una fase di apprendimento rafforzato da una certa carica emozionale cioè vedevo che era aumentato il mio battito cardiaco avevo assunto sulla sedia una posizione di tensione rispetto allo schermo cioè stavo molto concentrato su quello che stavo facendo perché stavo così concentrato perché stavo giocando perché ero coinvolto in un'attività cioè non stavo ascoltando una video lezione non stavo leggendo a volte a me quando leggo ogni tanto mi cala la palpebra no ero coinvolto in un'attività un'attività che però mi rimandava indietro delle informazioni se non altro mi diceva la risposta che hai dato è giusta o sbagliata e quindi mi comunicava queste informazioni stavo effettivamente imparando da quando li ho scoperti ho provato a utilizzarli all'interno dei miei corsi online io ho fatto tanti corsi diversi su vari temi del digitale come creare podcast come fare video online come scrivere per il web e la cosa incredibile è che ho avuto centinaia di migliaia di persone che hanno fatto questi corsi negli anni per cui ho insegnato a una di persone che penso dal vivo di non averle mai viste neanche tutte insieme e e con questi quiz questi quiz vengono molto apprezzati con questi quiz ho potuto completare il processo di insegnamento perché alla fine di ogni unità alla fine di ogni video io metto lì un video da 5 10 minuti dove ti spiego come scegliere il microfono migliore per fare podcasting alla fine del video ti propongo subito un quiz da 1 2 3 5 domande dove ti rafforzo i concetti principali che ti dovevi portare a casa è come se attraverso il quiz ti dicessi guarda tra un anno di questo video potrai esserti dimenticato tutto tranne queste 5 informazioni fondamentali che sono le risposte alle 5 domande del quiz che ti propongo subito dopo il contenuto didattico e allora ho visto che questo portava un reale vantaggio ai miei studenti che erano molto contenti di questo di questo strumento di apprendimento allora se il quiz non serve a verificare ma insegnare perché è così efficace perché come dicevo prima il cambio modalità di apprendimento non sto vedendo un video non sto leggendo non ho un apprendimento passivo dove qualcun altro parla mi trasmette l'informazione e io la devo assorbire no è un apprendimento attivo cioè nel mio cervello si crea la domanda ma quello che stai dicendo mi serve quando ascolto un video leggo un libro mentre quando faccio un quiz interattivo io sono sicuro che mi serve perché tu prima mi crei il problema mi fai la domanda e poi mi proponi un set di soluzioni e sono io a scegliere una soluzione perché quella soluzione mi porterà a vincere a superare a assegnare come corretta quella domanda quindi è come nell'apprendimento passivo quello che si fa durante la lettura o vedendo un video quell'apprendimento lì è come offrire una cura senza avere prima la malattia una antidoto senza prima aver preso il veleno mentre nell'apprendimento attivo io ti do prima il veleno e poi ti dico qual è l'antidoto a questo veleno prima ti faccio vedere che hai un problema e poi ti faccio vedere una soluzione a quel problema questo è lo stato in cui il cervello impara di più perché il nostro cervello come diceva il nostro caro amico sherlock holmes tiene volentieri solo le informazioni che lo aiutano a superare un problema concreto cioè un problema reale non problema astratto che non ti riguarda andiamo a imparare come si scavano i pozzi nel deserto ma io non ci sto nel deserto sto al polo nord che mi serve imparare come si scavano i pozzi nel deserto se non ho trovato l'utilità pratica l'utilità anche non solo pratica ma anche teorica o intellettuale di quello che mi stai dicendo ma deve essere utile il mio cervello ricorderà quell'informazione per un minimo tempo è come il buffer del computer come fare un control c no un copia lo tiene lì da parte fino a quando non devi mettere un'informazione successiva per cui viene sovrascritta quell'informazione attenzione allora se vogliamo c'è un ultimo elemento che rende il quiz didattico così potente che è la gamification si sono interrogati in molti come mai su come mai alcune persone lavorano tantissimo e altre invece si stancano subito come mai alcuni studenti studiano tantissimo e altri dopo un po' sono morti perché non è questione solo di buona volontà di essere studenti diligenti o svogliati si tratta di un meccanismo che alcune persone riescono ad attivare nella propria mente questo meccanismo è la gamification cioè il trasformare quello che stai facendo in un gioco ti è mai capitato non lo so mentre lavavi la macchina di dire vediamo se riesco a sciacquare questo lato della macchina più velocemente dell'altro oppure mentre stai leggendo una pagina a cronometrarti vediamo in quanto tempo ci metto a leggere questa pagina ecco questi sono tutti i ragionamenti che derivano da questa attitudine del cervello a creare dei giochi interni all'attività cioè se tu devi leggere dieci pagine ma nel leggere queste dieci pagine io ti dico la tua media di lettura è due minuti a pagina vediamo se riesci a leggere più velocemente il tuo cervello metterà delle risorse extra perché il suo obiettivo non è solo leggere ma è leggere vincendo il gioco della velocità e chi fa un'attività come questa dopo dieci pagine sente di meno la fatica non si accorge che ha letto dieci pagine si accorge che ha vinto o che ha perso la competizione interna a quel gioco e se ha vinto si crea proprio un'atmosfera di euforia interna alla mente se ha perso gli rimane un feedback negativo ed è questo il motivo per cui il mio professore del tempo dell'università americana non aveva inserito domande con risposte troppo difficili perché non voleva che gli studenti fossero frustrati non voleva che gli studenti sbagliassero le risposte voleva che le azzecassero voleva che fosse facile individuare la risposta giusta perché in quel momento il loro cervello avrebbe organizzato una festa dicendo evviva abbiamo trovato abbiamo vinto e ci ha fatto vincere che cosa questa risposta qui ok questa risposta allora è nostra amica portiamocela a casa e teniamocela cara quindi è importante per creare quiz interattivi quiz didattici tener conto uno dell'importanza dell'insegnamento attivo rispetto a quello passivo due del del meccanismi interni quasi biologici che biochimici ecco che può attivare la gamification nel cervello dei nostri studenti è come se noi hackerassimo il funzionamento del loro cervello utilizzando dei meccanismi interni per poterle usare la gratificazione come un fissativo delle informazioni detto questo direte ma scusa giulio uè gaudiano ma quali sono questi strumenti online per creare quiz didattici gratis ne ecco te li dico subito il primo strumento secondo me quello veramente più semplice alla portata di tutti gratuito è google forms google forms che troviamo dentro google drive ci permette di creare form quindi moduli ecco moduli da compilare ma ci permette anche di utilizzare perché quelli di google hanno visto che molti moduli venivano utilizzati in questo senso e hanno inserito delle funzionalità per far sì che funzioni ancora meglio ci permettono di creare quiz quindi molto semplicemente apro un nuovo modulo di google creo il modulo mettendo il titolo la descrizione con le istruzioni e poi posso creare come avrei creato delle domande o delle sezioni del modulo posso creare domande di un quiz naturalmente ho nelle impostazioni di google forms la possibilità di dirgli guarda questo è un quiz la possibilità di ordinare in maniera casuale domande o le risposte e la possibilità di raccogliere le informazioni quindi le risposte degli studenti all'interno di un database e dimostrare a loro stessi il risultato di questa compilazione perché non c'è quiz se non c'è premio e gratificazione finale e questo è un primo modo quindi google forms esistono mille tutorial online su come creare quiz con google forms o google moduli è veramente semplicissimo per ogni domanda posso includere delle immagini dei testi esplicativi posso mettere più più domande oppure posso mettere il vero falso o posso far selezionare più risposte a un'unica domanda in maniera che una escluda l'altra in maniera che si possano selezionare più risposte contemporaneamente insomma tutti gli strumenti basici a disposizione dei professori degli insegnanti ci consentono di utilizzare google forms per creare quiz didattici da condividere con chi vogliamo semplicemente tramite un link il passetto successivo è google classroom se tu utilizzi google classroom puoi abbinare un google forms creato all'interno di google classroom ha una unità didattica quindi puoi dare una lezione e abbinare un quiz didattico oppure assegnare dei quiz didattici mettendo una data di scadenza dandoli alla classe e dicendo ragazzi questo me lo dovete compilare entro venerdì in questo modo potremmo avere vari effetti cioè potremmo ottenere che gli studenti siano più motivati a studiare perché poi devono affrontare il quiz avere un cosiddetto deliverable cioè un qualcosa che devo fare dopo che ho studiato e quindi sono più motivato a studiare per completare il quiz in tempo ma anche se avessimo il furbetto che prende e fa il quiz senza aver completato lo studio noi di fatto stiamo passando un po un bignami dei concetti fondamentali da portare a casa dallo studio di quella unità quindi sempre perché non dobbiamo utilizzare il quiz per verificare ma dobbiamo utilizzare il quiz per insegnare quindi anche il quiz non sarà due domandine buttate là sarà articolato per fare in modo che se anche io non avessi letto nulla ma andassi solo a logica mentale potrei completare il quiz e comunque ricordare le cose che le risposte che ho dato e le cose che mi vengono dette durante la creazione del quiz abbiamo parlato di google forms abbiamo parlato di google classroom che si integra con forms parliamo di uno strumento lanciato da pochissimo dal sistema di instant messaging che si chiama telegram quindi telegram da poco ha creato un bot o meglio l'ha perfezionato che si chiama quiz bot e che ci permette di creare dei quiz ai quali si risponde via chat sul canale di strategia digitale ne ho creato uno mentre facevo la fila al supermercato durante il weekend quindi è molto semplice da creare anche qua si mettono varie domande si può per ogni domanda stabilire varie risposte si possono includere dei media video immagini oppure testi prima dell'invio della domanda quindi il quiz includerà tutto compresi i media e con una semplice condivisione del quiz posso inviarlo a gruppi a canali in chat one to one posso condividere il quiz e far fare il quiz e verrà creata anche una classifica perché anche questo quiz può essere a tempo quindi può indicare quanto tempo hai a disposizione per ogni risposta o meglio per dare una risposta a ogni domanda l'ultimo tool che ti consiglio è un tool molto simpatico che porta all'ultimo grado la gamification questo tool mi è stato in prima battuta consigliato mi pare proprio da marco bani che oltretutto sta seguendo questo post podcast in diretta e poi mi è stato ricordato da enrico rossomando anche lui coautore di questo episodio perché l'ha seguito in diretta e mi ha detto ma scusa ma caout non lo consigli e allora sì che lo consiglio il quarto tool che ti consiglio è caout caout secondo me riesce a portare la gamification all'ultimo stadio perché ti permette di creare quiz in maniera molto veloce e semplice mettendo durante la fase di gioco una musica di sottofondo la tipica musica dei videogame queste musiche ti fanno salire l'attenzione ti fa permette di fare quiz a tempo ti fa vedere gli a chi sono gli altri che gareggiano ti permette di rispondere dallo smartphone cliccando sul pulsante associato alla risposta e questo è molto importante dal punto di vista neuropsicologico perché alla tu clicchi cioè associ un gesto semplice a una gratificazione immediata tu clicchi e ti dice giusto clicchi sbagliato giusto sbagliato giusto sbagliato questo correlazione molto stretta tra l'azione e il feedback funziona molto bene per stimolare la nostra reattività e l'attenzione emotiva rispetto alle cose che facciamo quindi questo è un altro è un altro tema quello del del portare il livello emotivo la temperatura emotiva al massimo forse caut per classi tradizionali può essere un po troppo giocoso mi spiego meglio nel momento in cui alziamo molto la temperatura emotiva tutti gli altri saranno tutte le persone che partecipano saranno eccitate cioè si scarica l'adrenalina in loro come suggeriva marco mi diceva beh caut aiuta a dare un po di adrenalina alla vita scolastica sì ok però se poi io dopo che ti ho dato l'adrenalina voglio spiegarti una cosa che ti richiede la concentrazione tu mi sei ormai sei totalmente defocalizzato io mi è successo una volta di fare una classe una lezione a una classe di imprenditori gli ho fatto fare un gioco che innalzava l'adrenalina dopodiché me li soppessi per tutto il pomeriggio le due ore successive non c'era modo di fargli stare tranquilli parlavo insegnavo e loro mi interrompevano continuamente con domande perché avevo alzato appunto il livello emotivo allora verifichiamo bene se utilizzare l'adrenalina l'attenzione emotiva per stimolare la classe riesce a farci raggiungere il nostro obiettivo che effettivamente passare loro delle informazioni insegnargli delle cose che poi rimangano bene scritte dentro la loro testa e magari andiamo a posizionare il quiz fatto con caut alla fine della sessione di videoconferenza o di lezione a distanza perché se lo facessi all'inizio le andrei a eccitare troppo oppure potrei fare un piccolo quiz all'inizio per risvegliarli e dire oh ragazzi ora che siete belli caldi facciamo la lezione e sarete più coinvolti interagirete di più perché il problema di molte lezioni a distanza è anche che nei momenti in cui ci connettiamo ognuno ha una propria una propria dimensione emotiva cioè uno è stanco l'altro è eccitato uno è annoiato l'altro è depresso e a differenza dalle riunioni fisiche nelle quali gli esseri umani sono capaci di sintonizzarsi auto sintonizzarsi l'uno sull'emozione dell'altro attraverso questa cosa stupenda che è l'empatia a distanza è molto più difficile che questo avvenga quindi un quiz potrebbe essere anche un uno strumento di priming uno strumento di preparazione delle persone ad avere tutte più o meno lo stesso livello emotivo per poter entrare insieme in una lezione online ultimo anzi penultimo punto è la strategia nella creazione delle risposte perché i quiz non sono facili da creare cioè non sono difficili da creare dal punto di vista tecnologico tutte queste piattaforme google forms in google classroom telegram il quiz bot e caout sono veramente banali per quanto riguarda l'utilizzazione nella creazione del quiz non è banale la strategia cioè come si crea un quiz allora la prima cosa che devo fare è creare una lista delle risposte giuste me la creo a casa mia su carta prendo un foglio di carta e mi scrivo una lista delle risposte giuste con la lista delle risposte giuste che corrispondono ai punti di focus cioè quali sono le cose le informazioni che il mio studente si deve portare a casa una volta definite quelle informazioni quella mia lista andrò a creare le risposte come le creo le risposte beh farò anzi prima devo creare le domande quindi a questa risposta giusta qual è la domanda che corrisponde la risposta è il miglior microfono per fare podcasting è il microfono a condensatore ok qual è la domanda la domanda è qual è il miglior microfono per fare podcasting ok ora ho la risposta giusta è la domanda ora mi servono le risposte sbagliate andrò a focalizzarmi sul contrario quindi qual è il contrario della risposta giusta il contrario è la risposta sbagliata e quindi il microfono non lo so microfono dinamico ora dico delle cose che in sé potrebbero essere non corrette però per farti capire quindi la risposta giusta è il microfono a condensatore la risposta sbagliata è il microfono dinamico poi prendo una terza risposta sbagliata che è la risposta assurda una terza risposta oltre a quella sbagliata che è la risposta assurda la risposta assurda è è meglio non utilizzare nessun microfono a quel punto essendo partito la risposta giusta avendo focalizzato la domanda ho definito una seconda risposta sbagliata la il contrario e la terza risposta che è l'assurdo e qui posso continuare scegliendo una seconda risposta sbagliata o una seconda risposta assurda se voglio ampliare inserendo ulteriori risposte ma di base se voglio inserire tre risposte a ogni domanda mi basta questa piccola strategia risposta giusta contrario e assurdo infine voglio inserire un risvolto marketing a questa a questa strategia il risvolto marketing è che al di là della didattica se io faccio didattica scolastica va bene non mi interessa didattica universitaria non mi interessa ma se sto vendendo corsi online e voglio utilizzare i quiz didattici come strumento all'interno dei miei corsi online potrebbe essere il quiz un ottimo strumento di marketing per il mio corso quindi potrei creare un quiz sull'argomento del mio corso proporre il quiz alle persone potenzialmente interessate metterlo sulla pagina dove vendo il mio corso inviarlo a una mia lista di contatti via email mandarlo via chat sul mio canale telegram cioè lo propongo alla mia audience potrei creare un advertising una pubblicità su facebook o su google adwords che porta le persone a verificare la propria conoscenza su un dato tema e dopo alla fine del quiz come premio tra virgolette posso dare uno sconto sul corso quindi voglio vendere un corso a 19 euro e 90 il prezzo pubblico è 49 euro e 90 ok allora ho il mio corso a 49 euro propongo il quiz per capire se sai già scrivere online il corso parla di scrittura per il web sai già scrivere per il web ecco il quiz oppure conosci i segreti della scrittura per il web ecco il quiz le persone fanno il quiz dopo il quiz la stessa persona che prima non avrebbe comprato il corso ricevendo come premio della sua azione uno sconto per acquistare il corso sarà molto 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 più motivata ad acquistarlo quindi anche dal punto di vista marketing il quiz potrebbe essere decisamente un'ottima strategia anche per vendere di più i nostri corsi siamo arrivati alla fine di questa puntata beh non mi rimane che ringraziare coloro che mi hanno fatto compagnia no di più della compagnia che mi hanno aiutato a creare questa puntata di strategia digitale di chi sto parlando sto parlando di coloro che hanno seguito la realizzazione della puntata live ogni lunedì alle ore 12 ci vediamo per creare insieme la puntata di strategia digitale avverto sempre per tempo sul canale telegram di strategia digitale e mando il link per per partecipare e altrimenti se se già utilizzi twitch puoi andare tranquillamente sul mio canale twitch seguirlo e riceverai una notifica ogni lunedì alle 12 chi mi ha aiutato in particolare beh prima di tutto fabio disanto fabio disanto autore anche di bellissime caricature sebastiano dato enrico rossomando riccardo mancio mancinelli il suo nome ric mancio quindi sono sbagliato marco banni che è arrivato a gamba tesa graziano ferro e chi anche non ha interagito via chat ma ha giocato durante i test che abbiamo fatto delle varie piattaforme per creare i quiz tra cui caout quindi non sono stati solo questi ma c'era anche qualcun altro che giocava per esempio lia grazie di cuore per aver partecipato a questo test voglio ringraziare anche i produttori di strategia digitale molti di questi che ho citato sebastiano enrico rossomando graziano ferro sono anche produttori di strategia digitale chi sono i produttori sono coloro che ogni mese con un importo che decidono loro vanno a contribuire alla creazione economicamente la creazione di strategia digitale come si fa a diventare finanziatori e produttori di strategia digitale come si fa a partecipare alle dirette come si fa a mandarmi dei messaggi diretti via telegram o unirti al canale al gruppo di strategia digitale le risposte a tutte queste domande sono strategia digitale punto info se vuoi entrare di più nel mondo che sta dietro a questo podcast vai su strategia digitale punto info ti aspetto lì e ringrazio anche di cuore il co autore di questo podcast il nostro alessandro miglionico il fonico costanza mineo e radiospeaker punto it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano